Come è il Privacy Day 2016? Forse perché il Privacy Day si è tenuto a poca distanza da un luogo storico ma c'è poco di storico, c'è molto più di cronaca in quello che sta accadendo. Abbiamo preso spunto da un evento di queste ore, la comunicazione che Amazon ha inviato a tutti gli utenti della piattaforma di commercio elettronico dicendo abbiamo modificato la tua credenziale di accesso, quindi abbiamo impostato una password temporanea per una nostra precauzione. Tutti sul web hanno cominciato ad immaginare che ci potesse essere stato la violazione dei sistemi informatici, quindi un bypass delle misure di sicurezza e che molte informazioni fossero finite nelle mani sbagliate. Non ci sarebbe da stupirsi, non fosse altro perché abbiamo avuto recentemente il caso di EU con 400 milioni di account e password di utenti di posta elettronica e tutto questo imbarba alla riservatezza dei dati personali. Con il rischio che determinate informazioni utilizzate per la registrazione di una casella di posta in quella fattispecie potevano mai essere utilizzate in maniera indebita dal manutenzionato che ha sottratto quei dati dagli archivi elettronici in cui erano depositate o da chi eventualmente poteva aver mai comprato quelle informazioni per farne un uso sicuramente illegale.